Buona serata. Benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Ci stiamo avvicinando ormai a passi serrati verso il 26 di maggio, quando si voterà per il rinnovo delle cariche di sindaco in molti comuni d'Italia e della Toscana e anche in tre capologhi, tra cui Firenze. Noi oggi ci concentreremo con uno dei candidati al sindaco per Palazzo Vecchio, ovvero Roberto De Blasi del Movimento 5 Stelle. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie a tutti. Allora, come sempre facciamo qui, apriamo una parentesi breve, iniziale, su quelle che sono alcune questioni nazionali. Al di là delle ultimissime che riguardano le alleanze di governo, il tema su cui mi interesserebbe invece concentrarmi, per avere proprio un parere suo, anche al di là dell'appartenenza politica, è su quello che riguarda le azioni che sono state messe in campo da Casa Pound, che riguardano il Salone di Torino da una parte, e insomma lo sgombero forzato, volontario, diciamo, che sarebbe stato per i Rom nella zona di Roma, per la famiglia Rom. Al di là di questo, oggi si torna a gridare in qualche modo al fascismo, proprio il presidente, il leader della casa elettrice, di Altaforte, è stato indagato dalla propria di Torino per apologia del fascismo. Io le chiedo questo, lei si sente antifascista, il Mojito 5 Stelle è antifascista, e oggi l'antifascismo è qualcosa che ha attinenza con la realtà odierna, o è qualcosa che appartiene soltanto al passato? L'antifascismo deve essere un principio fondamentale di tutti i cittadini italiani. Non si possono tollerare rievocazioni al periodo del ventennio, della quale appunto tutti noi ci dobbiamo vergognare. Certe iniziative, doverle accostare a un sentimento di odio razziale, non hanno ragione di esistere e di essere condivise. Ritengo che, diciamo, gli eventi recenti a cui hai fatto riferimento siano riconducibili a una questione di illegalità, non di odio razziale. Per cui il Mojito 5 Stelle, come credo tutte le forze politiche, è assolutamente contrapposto a questo tipo di ideale. Se sarà il sindaco, Firenze porterà una bandiera e avanti la bandiera dell'antifascismo? Io personalmente, a nome del Mojito 5 Stelle, ho avuto l'onore di partecipare alla commemorazione del 25 aprile. Sono stato molto... mi sono anche commosso per certi versi. Ho sempre partecipato a questo tipo di iniziativa da libero cittadino. L'occasione in particolare è stata su invito del sindaco in carica a Dario Nardella, al quale ho avuto più volte modo di ringraziarlo per avermi dato questa opportunità. I fondamenti sono quelli dell'antifascismo e comunque questo tipo di commemorazioni devono essere, come dire, rievocate sotto l'unica bandiera che è quella del tricolore ai quali tutti i cittadini italiani fanno riferimento. Senta, una domanda che riguarda, insomma, in questo senso un ruolo importante di Firenze. C'è quello di capitale culturale, e lo è innatamente per gli splendidi tesori che ha, ma insomma che da la pira in poi, diciamo così, si è innalzata anche a capitale in qualche modo della cultura moderna, non soltanto di quella rinascimentale appartenente al passato e quindi anche a valore, che sono quelli dell'accoglienza, della condivisione, dell'interazione pacifica tra i popoli. È qualcosa che, come dire, è stato incentivato in questi anni e se sarà lei sindaco, come dire, porterà avanti in questo senso? Sono assolutamente d'accordo. Tutti gli stati europei, in particolar modo, o le ultime vicissitudini del nostro paese in Italia, stiamo vivendo una condizione di integrazione delle civiltà da tutte le parti del mondo, sempre più stranieri popolano la nostra città in cerca di lavoro, in cerca di speranza, in cerca di dignità, e ritengo che sia in questo senso, o Firenze in particolar modo, ma insomma l'Italia tutta, sia nella condizione di poter offrire nuove opportunità di vita a queste persone che vengono nel nostro paese. Senta, che cosa ha spinto Roberto De Blasi a candidarsi al sindaco? Abbiamo detto Cinque Stelle, sappiamo, insomma, poi ci sono ovviamente i meet-up, ci sono, come dire, anche delle gerarchie interne, ovviamente tutto quanto, però poi c'è anche, come dire, la scommessa personale di uno che si mette in gioco. L'incredibile, come dire, passione che mi ha travolto, l'amore che ho nei confronti di questa incredibile città, ritengo sia la città più bella del mondo, un museo a cielo aperto che ha necessità di essere governata e controllata, in maniera ordinata. Riceviamo annualmente visite di milioni e milioni di turisti, studenti fuori sede, ed è giusto, è coraggioso offrire a queste persone, a queste entità, il decoro, per quanto riguarda lo spazio e i luoghi che vivono, il decoro che merita, insomma, la città in questo senso. Insomma, lei è un professionista, come lavoro fa l'architetto, quindi mi viene anche facile fare una domanda che non mi capita spesso di fare, però insomma, lei è un addetto al lavoro in questo senso e mi viene bene, perché, insomma, non ha detto a me, ha detto a di tutti, come dire, la bellezza architettonica delle periferie in qualche modo determina anche il tessuto sociale poi che si sviluppa in queste territorie, cioè c'è stato un periodo nel nostro tempo in Italia in cui si è pensato a costruire le periferie, le si potevano costruire in un certo modo e al di là dell'estetica, quelli sarebbero stati in Italia in un certo modo, poi si è cominciato a rivalutare questa idea. Che cosa dovrebbe cambiare, secondo lei, dal punto di vista proprio estetico, architettonico nella nostra città, soprattutto mirato alle periferie? Ma a te ho usato l'aggettivo bellezza architettonica per le periferie, le periferie che siamo abituati a conoscere oggi, ma non soltanto per il caso di Firenze, ma per il caso di tutti i capologhi di provincia, delle città di media e grande dimensioni, sono stati esperimenti urbanistici realizzati intorno agli anni Sessanta, nel mediato dopo guerra, fine anni Cinquanta, primi anni Sessanta, in cui si aveva l'idea che concentrare all'interno di comparti urbani densamente popolati una grande quantità di persone potesse essere la scelta giusta per soddisfare le loro esigenze. Il Tempo ci ha raccontato che così non è, su tutti i libri di urbanistica e testi di urbanistica scritti in passato, o comunque anche quelli recenti, hanno dimostrato che questo tipo di urbanizzazione non ha da dato i risultati sperati. Spesso le periferie sono state oggetto di una sorta di ghettizzazione nelle quali la gente la fa un po' come detta alle regole, in questo senso. Troppo l'anarchia, diciamo. Esattamente, poco rispetto delle regole. Per cui occorre riportare al ruolo di centralità le periferie, smettendo di chiamarle periferie, ma chiamandole quartieri, quartieri di una città, restituendogli l'identità o almeno consegnandogli l'identità che magari gli era stata promessa e mai gli è stata data in questo senso. Quali sono le soluzioni che si possono attuare per seguire questo scopo? I quartieri della città, i quartieri periferici, magari possiamo limitarci a chiamarli in questo modo, devono essere partecipati da tutti i cittadini. In particolar modo, nel caso di Firenze, abbiamo l'idea che possano essere protagonisti anche nell'ospitare i turisti. I quartieri periferici possono ospitare mostre, allestimenti culturali, eventi che possano richiamare l'attenzione dei turisti. Questo anche per risolvere il congestionamento delle persone che vivono il centro storico, con delle turnazioni che possano in qualche modo spostare l'attenzione anche verso i quartieri periferici. In questo senso si darebbe anche una risposta, come dire, appunto a quello che diceva lei, al congestionamento del centro. Fermo, restando, e qui entriamo sul tema anche del turismo, oggi facciamo un po' un flusso così, un po' all'incontrario rispetto a come facciamo di solito, entriamo anche sul tema del turismo, perché è vero che, insomma, Firenze ha un'attrattiva indiscutibile e anche molto grande, ma è vero che questi flussi vanno gestiti. Lei dice che spostiamo anche le attrazioni, insomma, le possibilità anche in periferia, è in dubbio che chi viene a Firenze vuole anche andare a vedere però il Davide di Michelangelo, il Palazzo Vecchio, il Duomo, eccetera, eccetera. Come si fa a decongestionare il centro? Siamo assolutamente d'accordo, però non possiamo limitare l'offerta rivolta ai turisti nel semplice atto di scattare una foto davanti ai monumenti rappresentativi di Firenze. Io lo vedo quando vado nelle altre città europee in visita con la mia famiglia, cioè ci sono tante iniziative che richiamano l'attenzione delle persone che vivono quei luoghi nelle zone e nei quartieri periferici della città. Se si intende allestire una mostra di arte moderna, come è stato fatto recentemente nel centro storico di Firenze, in quel contesto, quell'occasione, stonava assolutamente con i palazzi circostanti, che hanno della caratteristica di avere una certa entità rivolta a una certa qualità artistica ed urbanistica. In questo senso certe installazioni avrebbero avuto sicuramente più successo dal punto di vista del decoro cittadino, ma soprattutto anche di frequentazione di spazi periferici, quindi dei quartieri periferici, e non avremmo magari avuto un... ci saremmo risparmiati di vedere Piazza della Signoria così densamente vissuta da turisti che, ripeto, si limitano soltanto a scattare una foto, ma poi li vedi disorientati. Bisogna vedere se l'artista è d'accordo a mettere la propria stata in periferia, invece in Piazza Signoria. Dovremmo regolamentare questo tipo di iniziative, chiaramente facevo riferimento a una mostra di arte contemporanea che magari, che sicuramente stona nel contesto storico e artistico di Firenze. Tipo il Big Clay di Urs Fischer, era una della statua, insomma quella... Mi riferivo proprio a quell'evento lì, esattamente, sì signor. Senta, però appunto sul discorso del turismo vale la pena spendere due parole in più, perché al di là del decentramento, poi la gestione dei flussi turistici in centro ha provocato e rischia di provocare, insomma, questa amministrazione, riuscendoci o meno, questo me lo direi a lei, insomma, ha cercato di correre ai pari in questi cinque anni, anche con ordinanze specifiche per combattere, diciamo, il degrado e il proliferare anche e soprattutto i negozi che fanno bene ai negozianti, perché guadagnano molto, ad esempio, i negozi alimentari, ma fanno male alla città, perché poi alla popolazione che abita il centro e che, venendo scomparire i negozi di vicinato, rischia di decidere di andare a vivere da un'altra parte. E quindi l'emorragia dei fiorentini dal centro. Come si combattono? Purtroppo, se si fa riferimento ai negozi alimentari, e penso, diciamo, alla bottega storica, non trae nessun beneficio, anzi, in diverse occasioni sono state costrette a chiudere in favore di proliferarsi di centri commerciali di piccola e media distribuzione, quelli che oggi normalmente nascono nel centro storico di Firenze e che hanno la maggiore rispetto alle piccole attività commerciali. Recentemente il sindaco in carica, in occasione appunto del confronto che c'è stato l'altra sera alla Certosa, ha, come dire, dichiarato il cavallo di battaglia della mancata realizzazione e apertura del McDonald's in piazza Duomo. Ho avuto l'occasione appunto di ribadire che tutte le strade, diciamo, vicine, nei pressi di quella zona lì, sono, diciamo, sono, è caratteristica la presenza di queste piccole attività commerciali, piccole e medie attività commerciali, sorte realizzate in luogo dove una volta esistevano i negozi storici di Firenze e le botteghe che hanno fatto di Firenze una tradizione del centro storico. Il fenomeno andrebbe governato con un regolamento, cioè porre dei rimedi, come dire, delle toppe, come impedire a un turista di, cioè consentirgli di acquistare un panino e poi impedirgli di consumarlo, suona come un provvedimento che è rivolto alla gestione degli effetti, non alle cause del problema in se stesso. Per cui ritengo anche che sia una sorta di brutta figura che possa fare l'amministrazione in questo senso, perché li vedi questi turisti disorientati, sanno che c'è questa norma, non sanno bene dove si possa consumare un panino. Magari sarebbe stato più, come dire, decoroso e legittimo utilizzare la piazza vicina a Via dei Meri, che è piazza Giudici, che attualmente è utilizzata come, ha la funzione di parcheggio selvaggio, per installazioni di pedane che abbiano in qualche modo come funzione quella di accogliere i momenti di sosta di turisti che intendono consumare un prodotto tradizionale del posto, che può essere il panino all'amprodotto piuttosto che alla salsiccia, insomma, sono tutte questioni che con pochi veramente accorgimenti possono essere risolte. Sette, lei diceva, su risolvere, l'ultima domanda su questo, sul risolvere, diciamo, il problema alla fonte, e beh, in questo caso la fonte è anche la qualità artistica a Firenze e di conseguenza un mercato, anche quello privato e oggi soprattutto con la sharing economy, diciamo, anche di quell'economia che è difficilmente gestibile, soprattutto a livello comunale, che, come dire, va avanti da sole ed è poco governabile. In questo senso, che cosa può fare Firenze, insomma, se lei domani sarà sindaco, come si porrà anche rispetto alla richiesta, magari, immagino, di una normativa nazionale sulla gestione per i centri storici e artistici come, ad esempio, Firenze? Allora, bisogna comunque fare in modo di governare il fenomeno dell'aumento della disponibilità per il pernottamento, soprattutto nel centro storico a Firenze. C'è un'emorragia, come dicevi giustamente prima te, di residenti che abbandonano il centro proprio perché non riescono più a convivere con le attività, con la movida del centro storico e spesso questi alloggi, questi immobili, vengono trasformati in strutture turistiche ricettive. Queste trasformazioni avvengono spesso e volentieri in maniera, come dire, autonoma da parte dei proprietari e degli investitori che intendono perseguire questo tipo di attività, magari non prestando scarsa attenzione a quelle che sono le normative e soprattutto igienico-sanitarie. Mi riferisco alla condizione di un appartamento di 150-200 metri quadri dove magari esistono due o tre servizi igienici, viene trasformato, vengono realizzate sei, sette, otto camere con otto servizi igienici, sappiamo benissimo che gli edifici dove sorgono queste realtà sono edifici storici, antichi e gli impianti di smaltimento delle acque e reflue non sono dimensionate per sopportare questo tipo di utenza, per cui probabilmente questa è una delle cause e di quell'odore caratteristico che si respira nei vicoli del centro storico di Firenze che non è poi così tanto gradevole. Per cui io limiterei le trasformazioni degli appartamenti, delle unità residenziali alle attività turistico-ricettive o meglio ne regolamenterei proprio l'attività con dei controlli serrati, magari incaricando gli amministratori dei condomini di fare delle verifiche puntuali sugli immobili gestiti appunto da loro stessi dando un arco di tempo di un anno, un anno e mezzo per potersi mettere in regola dopodiché provvederei immediatamente ai controlli per verificare che tutti gli impianti di smaltimento siano conformi alla normativa vigente. Molto chiaro. Prima parlava di una zona, come dire, che è particolarmente interessata la zona dell'Oltrano, insomma è particolarmente interessata da una tematica che è quella dei parcheggi, cioè diciamo della vita nel centro storico ma in quella parte specifica, perché in altre zone e non solo per chi ci vive ma anche per chi ci vuole andare magari una sera da Fiorentino o per i turisti che vi arrivano con la macchina ci sono effettivamente dei problemi di parcheggio. Il tema dei parcheggi insieme a quello della ZTL quindi dell'accesso al centro storico, sono due temi che hanno a che fare con la viabilità che non sono di secondo piano. Quali sono le vostre soluzioni? Il tema mobilità è un tema molto importante per una città che morfologicamente e per caratteristiche morfologiche appunto ha la caratteristica di essere rinchiusa in una conca con dei decolli a nord e a sud e un fiume che la attraversa interamente. Non possiamo permetterci, il centro storico non può permettersi di ospitare il transito di un numero così elevato di automobili che oltre a produrre inquinamento atmosferico produce inquinamento acustico. Le amministrazioni passate hanno realizzato delle linee tramviarie bisogna potenziarne la frequenza con la frequenza appunto di attraversamento delle linee eccetera e soprattutto l'estensione della ZTL H24 dal giovedì mattina alla domenica sera è un esperimento che l'attuale amministrazione ha giudicato positivo l'anno scorso. Io ho incontrato recentemente i comitati dei quartieri del centro e la loro vita è condizionata da questo tipo di provvedimento. I comitati sono disponibili o comunque mi sono sembrati più attenti, più rivolti all'adozione di questo provvedimento, alla conferma di questo provvedimento piuttosto che mettendo in secondo piano la sicurezza dei quartieri. Questo spaventa tanto perché sappiamo benissimo che a certe ore della notte alcune strade del centro storico sono off limits. Questo ci fa rendere conto la condizione psicologica dei residenti del centro storico che in questo modo non possono far altro che abbandonare i quartieri che hanno dimorato da generazioni. Quindi sulla ZTL cosa vorrebbe fare? Sicuramente estensione della ZTL e quindi ripristino dell'esperimento che è stato fatto per un mese la scorsa estate con orari che vanno dal giovedì mattina fino alla domenica sera. Ok chiarissimo. Senta, questione, visto che l'ha citata, ci passiamo veloce perché poi passiamo al capitolo delle infrastrutture, ma la questione delle tramvie, la discussione soprattutto dei partiti da destra è sullo stralciare di fatto quello che è il piano dei prossimi lavori e soprattutto l'arrivo della tramvia in alcune zone della città come ad esempio la parte sud-est che è la parte più complicata, la parte di zona Bagnarripoli. Voi invece siete a favore della tramvia? No. Allora, io sono d'accordo perfettamente con i dubbi espressi non solo dalle forze politiche contrapposte all'attuale amministrazione ma anche dalla sovrintendenza. Io credo che la linea 4 della tramvia, quindi il tracciato che va dalla stazione Leopolda fino alle piagge, sia una infrastruttura che è assolutamente necessaria, valida nella sua concezione e anzi forse credo che sarebbe stata la prima linea da realizzare. Perché comunque... Che va a lungo binare, è più semplice. Utilizza un tracciato già esistente e soprattutto mette in collegamento il centro di Firenze e la stazione Leopolda con un quartiere che notoriamente da anni è scollegato dalla città perché il traffico sulla Pistoiese è un traffico insostenibile per i cittadini che viaggiano, che abitano, che dimorano quelle zone. Diverso è per la linea 3.2, viene definita così, che riguarda il collegamento di Firenze e della stazione con Bagnarripoli. Non ho intenzione di pronunciarmi sul disastro che accadrebbe se l'altra via dovesse arrivare in piazza San Marco o addirittura in piazza Duomo. Siamo assolutamente contrari con questo tipo di intenzione, se mai ci fosse questa intenzione reale. Detto questo, una delle poche arterie di deflusso del traffico veicolare di Firenze sono i viali di circonvallazione, realizzati in luogo della cerchia muraria dal Poggi in occasione della Firenze capitale. Sono un sistema di strade che sono assolutamente necessarie per il deflusso del traffico veicolare. Il fatto di dover occupare un'ampia zona della carreggiata con una colata di cemento armato e farci passare in mezzo un treno, significa sì da un lato migliorare i collegamenti verso Bagnarripoli, ma dall'altro sì compromette l'effetto di questa importante realizzazione perché costringeremmo gli autisti delle auto a sostare un tempo maggiore lungo i viali e quindi questo produrrebbe sicuramente un incremento dell'inquinamento. Credo che il punto più delicato sia quello che vada dalla Fortezza da Basso fino a Piazza Beccaria o fino addirittura alle sponde del fiume. Questo tracciato nel considerare la realizzazione della tramvia non può non tener conto di questi aspetti per cui bisogna prendere in considerazione la necessità di non procedere all'abbattimento di ulteriori alberature e soprattutto di non ridurre lo spazio carrabile riservato oggi alle automobili. Potrebbe avere delle porzioni interrate ma soprattutto potrebbe avere un senso utilizzare il tracciato ferroviario esistente che va dalla stazione Santa Maranovella fino a Campo di Marte per poi arrivare a Barlungo. Con un collegamento di mezzi su gomma magari utilizzare sì il tracciato dei viali ma individuare, riservare delle corsie preferenziali fisse con l'utilizzo di mezzi elettrici su gomma che possono tranquillamente e in maniera sicuramente meno onerosa rispondere a queste esigenze. Molto bene, allora ci fermiamo per 5 minuti, torneremo con tanti altri temi con Roberto Rebrasi, giusto lo spazio per il telegiornale, torniamo tra pochissimo. Ben tornati in studio, allora stiamo parlando con Roberto De Blasi, candidato del Movimento 5 Stelle a Sindaco a Firenze, abbiamo parlato un po' delle questioni infrastrutturali che riguardano la città di Firenze, però Firenze è anche un nodo infrastrutturale per una porzione molto più ampia, insomma in qualche modo sia per la regione toscana ma direi per l'Italia intera, soprattutto per alcune opere che sono al palo un po' da diverso tempo. Partiamo dall'aeroporto. Non si può, come dire, ricondurre il giudizio per la realizzazione di quest'opera a un pro o un contro, o a un sì o un no dell'aeroporto. La questione è molto più ampia e più profonda, soprattutto molto più importante. È la zona in cui si intende realizzare quest'opera. La Piana Fiorentina, dalla Piana Fiorentina, noi crediamo dipenda il futuro dell'intera città metropolitana. Dipendono le condizioni di vita di tutti i comuni interessati dall'area in cui si intende realizzare quest'opera. Firenze ha già un aeroporto e credo che attualmente questo aeroporto sia, diciamolo anche, sottodimensionato rispetto a quella che è la frequenza, il traffico aereo, eccetera. Per cui a maggior ragione bisognerebbe considerare la possibilità, anzi la necessità, di dover collegare Firenze e quegli aeroporti internazionali limitrufi che già esistono a 70-80 km di distanza. Si spenderebbero molti meno soldi e soprattutto si andrebbe in conto alle esigenze ambientali di cui Firenze ha bisogno. Quando noi consultiamo le indagini di inquinamento o rilevate nel nostro paese, non so se vi è mai capitato di dare un'occhiata a quella famosa mappa dove le aree colorate di quel rosso acceso sono quelle più inquinate e quelle via via azzure sono quelle meno inquinate. Firenze ha lo stesso colore, è un puntino rosso e la gradazione diciamo cromatica corrisponde alla stessa della pianura padana. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Firenze insieme alla pianura fiorentina e insieme alla pianura padana sono le zone più densamente inquinate d'Europa. Il fatto di dover dare la possibilità o comunque dire che la necessità di far solvorare Firenze da decine e decine e forse centinaia di aeroplani tutti i giorni significa incrementare questa condizione di inquinamento. Firenze non è esposta ai fenomeni atmosferici che consentono un ricambio veloce dell'area inquinata. Firenze per troppi giorni l'anno supera i livelli di presenza di PM10 in atmosfera. Per cui ritengo che dover incrementare questa condizione sia assolutamente negativo perché di inquinamento ci si ammala e nella peggiore dell'ipotesi purtroppo si muore. Una domanda su questo però, perché l'iter è già avanzato, c'è stata una conferenza dei servizi che si è espressa. Qualche giorno fa il ministro del vostro partito, il ministro della giustizia Bonafede, ha detto che ha perplessità su quelle che potrebbero essere le normative europee e potrebbero andare dal suo punto di vista a intaccare il master plan della previsione di realizzazione dell'aeroporto. Se sarà lei sindaco, che cosa farà per effettivamente fermare questo? Allora, non possiamo non riconoscere il fatto che l'iter amministrativo, diciamo cominciato dal governo Renzi prima, proseguito dal governo Gentiloni-Dopino, dopo non dovesse giungere a un termine amministrativo, tra virgolette. Per cui ritengo che se ci fossero le condizioni per poter bloccare la realizzazione di quest'opera, noi ci adopereremo in questo senso. La linea politica è questa. Noi siamo a favore dell'ambiente, noi siamo a favore della salute dei cittadini e noi siamo a favore delle infrastrutture laddove la realizzazione di queste non dovessero compromettere appunto il benessere delle persone. Quindi realizzare una linea dedicata, ferrata, su treno, che possa mettere in collegamento le stazioni di Firenze con l'aeroporto, lo scalo Galileo Galilei di Pisa, che fra l'altro era una... Diciamo, io mi ricordo 20 anni fa, 25 anni fa, quando prendevo l'aero da Pisa e partivo da Firenze in stazione, mi veniva consentito anche di fare il check-in. Per cui il treno mi portava direttamente allo scalo Galileo Galilei. In tutte le città del mondo, diciamo, è ammissibile dover trascorrere 30-40 minuti di tempo su un treno per raggiungere l'aeroporto. Se io dovessi rispondere, dovessi pronunciarmi circa la possibilità o l'esistenza di un aeroporto all'interno della mia città o no, io preferirei che non ci fosse un aeroporto, perché comunque un aeroporto di questa dimensione sporrebbe a seri rischi non solo dal punto di vista ambientale la Piana Fiorentina e Firenze, ma anche a seri rischi di attentati e di incidenti aerei, che avrebbero conseguenze assolutamente disastrose. Senta, questione TAV, le chiedo di essere rapido, però anche quella è una partita piuttosto importante, anche quella in qualche modo viene giocata non solo a livello comunale, anzi soprattutto, diciamo, sopra la testa dei fiorentini, perché ovviamente è un'opera di RFI, però è un'opera su cui si è speso tanto e su cui ovviamente il Comune ha voce in capitolo. Diciamo che il futuro della TAV è una strategia che riguarda le politiche del Governo centrale, però Firenze non può tirarsi indietro nel dover considerare la presenza di uno scavo che è stato realizzato negli ultimi 15 anni, con una platea, credo, di cemento armato a coprirlo, e i lavori a un certo punto si siano interrotti. Non riesco a capire per quale motivo ora in campagna elettorale ci sia la necessità assoluta di dover riprendere questi lavori, che tra l'altro l'esistenza della fermata di alta velocità a Firenze, o comunque la presenza di questa fermata, è stata messa in discussione anche da Storoghia dello Stato. Ma questa è un'altra considerazione. Diciamo che le strategie politiche degli ultimi 15 anni credo che abbiano prima speso un'intenzione di voler realizzare questa struttura e poi in qualche modo si siano sospese queste strategie. Qui si tratta però di valutare se realmente Firenze ha bisogno di una fermata di alta velocità con quella concezione. Firenze ha già una fermata di alta velocità. Se noi andiamo alla stazione Santa Renovella, giornalmente decine e decine di freccia rossa fermano a Firenze per ripartire. Finora sono stati spesi qualcosa come 800 milioni di euro, se non sbaglio, e non è stato realizzato neanche un metro di sottoattraversamento ferroviario a Firenze. Probabilmente l'opera andrà a costare 5, 6, 7 miliardi di euro. Per cui dobbiamo tutti cominciare a considerare il fatto se valga la pena impiegare una spesa così importante per guadagnare magari 5, 6, 7 minuti di tempo di viaggio per un collegamento che va da Milano a Roma o viceversa. Che poi i ritardi di 5, 6, 10 minuti sono fisiologici già di per sé attualmente nella tratta. Per cui spendere così tanti quattrini per, come dire, giustificare la realizzazione di un'opera che dal punto di vista architettonico, lo dico da architetto, la stazione Foster, è assolutamente meritevole di considerazione e di apprezzamento. Però è anche vero che certi sforzi economici in un periodo di crisi andrebbero dirottati nei servizi piuttosto che alla realizzazione in questa situazione. Questo è il mio punto di vista. La domanda connessa a questo però gliela devo fare perché effettivamente i treni di alta velocità oggi fermano a Sant'Emeridovella ma avendo priorità totale su tutti gli altri convogli limitano in qualche modo lo sviluppo della rete ferroviaria locale, quindi quella regionale e quindi, come dice qualcuno, la metropolitana di superficie. Cioè avere dei convogli che in maniera più o meno fissa, in maniera molto più frequente, arrivano alle zone di Prato, di Pistoia, insomma in tutto l'Interland fiorentino che di fatto è una città senza soluzione di continuità. Come si fa ad incentivare quello lasciando l'alta velocità a Sant'Emeridovella? Hai assolutamente ragione. Firenze sono presenti in 5-6 stazioni, credo, andrebbero potenziate. Esiste la stazione di Campo di Marte, esiste la stazione di Di Fredi, esiste una rete ferroviaria che è assolutamente stata concepita in periodi in cui Firenze era in una fase di sviluppo, tutto il paese era in una fase di sviluppo. Attualmente queste stazioni vengono utilizzate poco, c'è una stazione anche alle piagge, potrebbero essere potenziate, incrementati il numero di binari in queste stazioni per smistare il traffico dei treni ad alta velocità da quelli locali. E mi riferisco anche all'impiego di risorse. Se le risorse fossero dirottate nello sviluppo e nell'implementazione dei collegamenti locali, che sono quei collegamenti che ai noi i pendolali utilizzano quotidianamente e quotidianamente denunciano disservizi, fra ritardi, sporcizi, eccetera, sicuramente riusciremmo a indirizzare l'impiego di risorse pubbliche per risolvere problemi molto più importanti. Senta, questione sicurezza, un paio di minuti. Firenze è una città sicura secondo lei? Assolutamente no, assolutamente no. Firenze anno dopo anno, diciamo che ormai gli episodi di violenza si susseguono con cadenza giornaliera. Ieri sul giornale leggevo della morte di una ragazza per overdose, ogni tanto si legge di aggressioni, magari per il furto di un semplice telefonino le persone rischiano la vita, i turisti rischiano la vita, i residenti rischiano la vita. Siamo in una condizione di assoluto mancato controllo e non esistono zone di frontiera in questa situazione. L'istituzione delle zone rosse credo sia un provvedimento assolutamente violento che suona come un commissariamento di una città, perché comunque quando si impedisce un libero cittadino di poter circolare all'interno degli spazi urbani è in qualche modo suona come una sorta di daspo, un provvedimento di facciata che serve a fare tante chiacchiere, ma che di fatto di risolutivo non ha avuto nulla, perché comunque chi delinque, chi è abituato a delinquere, continua a delinquere, perché comunque un provvedimento del genere che non mi trova comunque d'accordo senza l'impiego di forze dell'ordine che presidono il territorio a tutte le ore, soprattutto le ore della notte, non dà la possibilità di poter fare i controlli dovuti per allontanare queste persone dalle zone rosse. Premesso che non sono d'accordo. Io faccio parte del Movimento 5 Stelle, i nostri alleati di governo sono nostri alleati, la nostra alleanza è giustificata dalla sottoscrizione di un contratto, di un programma che vede, che impegna entrambe le forze politiche e sono impegnate appunto nella realizzazione delle questioni previste dal contratto di governo. Se i nostri partner utilizzano, comunque si adoperano in provvedimenti dei quali noi non ci troviamo d'accordo, noi siamo liberi di poterlo dire, anzi dobbiamo dirlo, perché comunque commissariare una città scavalcando i poteri del sindaco non ha sicuramente, non ritrova sicuramente motivo di soluzione nel problema che riguarda la sicurezza. La questione di sicurezza si affronta con altri modi. Quali? C'è una fase di emergenza che deve necessariamente essere contrastata, quindi va ripristinata la normalità. Le forze di polizia devono collaborare tutte, con polizia locale e con polizie statali, coordinate dal prefetto e dal sindaco, nell'istituire presidi fissi nei territori maggiormente sensibili. Recentemente la zona delle Cascine, che era diventato un supermarket della droga, ha subito questo tipo di iniziativa. Peccato che l'amministrazione si è dimenticata di presidiare i giardini immediatamente vicini, perché nel quartiere dell'Isolotto sembra che il viare di bambini, che è frequentato abitualmente dai miei figli e dai miei parenti, sia diventata la succursale del supermercato di spazio che rappresenta le Cascine. Quindi le azioni vanno coordinate, l'impiego di uomini deve essere sufficiente a fronteggiare il fenomeno e va ripristinata la situazione di normalità che Firenze viveva fino a qualche tempo fa. Dopodiché vanno promosse iniziative di mantenimento rivolte all'educazione civica delle persone, l'educazione nel senso civico delle persone, coinvolgendo soprattutto quella parte di società che non è protagonista nella vita collettiva quotidiana. Mi riferisco alle iniziative di carattere culturale. Recentemente sono stato in visita alla Scuola della Musica a Fiesole, dove il direttore mi ha parlato di un importantissimo progetto, mi ha parlato del successo di un importantissimo progetto, che è il risultato della realizzazione di una vera orchestra nel quartiere delle piagge. I collaboratori della Scuola di Musica di Fiesole si sono impegnati, si stanno impegnando negli ultimi anni nel radunare i giovani, gli adolescenti, ma non con la pretesa di insegnargli a fare musica, ma è sufficiente anche insegnargli ad ascoltarla la musica. Quindi impegnare le persone dalla tenera età significa insegnargli il senso civico che evidentemente non avrebbero se fossero lasciati a loro stessi. Siamo quasi in chiusura, manca un poco più di un minuto, le chiedo quello che ho chiesto anche ad altri, se sarà eletto sindaco, quale sarà la prima cosa di cui vorrà occuparsi, il primo fascicolo che vorrà avere sulla sua scrivania? O la prima cosa? Ci sono tante cose da fare a Firenze, io credo che più della prima cosa bisognerebbe occuparsi del fronteggiare 4-5 problemi che a Firenze sono assolutamente presenti. Il mio cavallo di battaglia, il mio desiderio più grande è quello di riqualificare tutta l'asta fluviale del fiume Arno da Varlungo fino alle Cascine, però ci sono problemi molto più urgenti da affrontare in questo momento. I temi delle infrastrutture devono essere in qualche modo gestiti e va presa una direzione. Il tema dello stadio è un tema importante, importantissimo, ma dal nostro punto di vista riteniamo che la questione sicurezza debba essere messa al primo posto, la questione del decoro deve essere messa al primo posto, per poi programmare nell'arco della legislazione tutto quello che noi abbiamo in mente e tutte le nostre intenzioni che abbiamo in mente di realizzare per la città di Firenze. Ormai mi dico anche dello stadio, perché 10 secondi... Lo stadio è una questione che se ne parla veramente da decenni. Io dal punto di vista tecnico ritengo che... me l'hanno insegnata all'università, prima di procedere alla realizzazione di un progetto esecutivo bisogna fare un'analisi urbanistica del tessuto urbano su cui si intende insediare un'opera. Non si può realizzare un esecutivo di un progetto e poi cercare una zona per poterlo collocare. Il processo deve essere inverso. Parto dal principio che non possiamo permetterci di trasferire i disservizi e i disagi dei residenti del quartiere del Campo di Marte in un altro quartiere densamente popolato qualora prendesse piede la necessità o la possibilità di fare lo stadio nell'area ex Mercafere. Gli stadi, gli impianti sportivi di queste dimensioni di queste dimensioni così importanti vanno realizzati in prossimità degli svincoli autostradali per evitare che il traffico delle persone che giungono a vedere le manifestazioni sportive possano intasare il traffico veicolare cittadino. E soprattutto, visto e considerato che queste opere vengono realizzate con finanziatori privati è chiaro ed è legittimo e giusto che annesse alle strutture vengano realizzate strutture ricettive economicamente ma queste strutture devono o non devono stravolgere l'equilibrio delle piccole attività commerciali magari linitrofe che sono legate veramente a un filo. Per cui ritengo che la zonizzazione debba essere ancora messa in discussione. Una volta trovata la location che soddisfi le esigenze dell'imprenditore le esigenze della società e soprattutto le esigenze dei tifosi della squadra della Fiorentina il progetto possa finalmente decollare. Grazie mille e in bocca al lupo a Roberto De Blasi grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti per averci seguito a casa. Telegram termina qui e noi ci vediamo domani. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie a tutti.